Come nella scorsa stagione sarà il Girone F di Serie D quello che accoglierà l'Aquila. Raggruppamento a 18 squadre nonostante l'inserimento in sovrannumero dell'Ancona nell'organico del campionato 2024-2025 di quarta serie avesse portato a ipotizzare un raggruppamento composto da 20 squadre. A livello di composizione geografica il Girone F 2024-2025 non presenterà modifiche sostanziali rispetto allo scorso anno. Ci saranno anzitutto le 5 abruzzesi, l'Aquila, Avezzano, Chieti, Notaresco e Teramo. Poi una nutrita pattuglia di squadre marchigiane ben nove, ossia Ancona, Atletico, Ascoli, Castelfidardo, Civitanovese, Fermana, Fossombrone, Re Canatese, San Benedettese e Vigor Senigallia. E ancora due saranno le squadre molisane, Termoli e Lisernia, altrettante quelle laziali Sora e Roma City. 12 squadre su 18 facevano parte dell'organico del Girone F di Serie D anche nella scorsa stagione. I nuovi ingressi sono, oltre al già citato Ancona, le retrocesse dalla C, Fermana e Re Canatese e le promosse dall'eccellenza Teramo, Civitanovese, Castelfidardo e Disernia. Adesso ufficializzata la composizione del Girone, l'attesa è tutta per i calendari con la stagione di Serie D 2024-2025 che prenderà il via domenica 8 di settembre.